3, 2, 1 In bruttura per la nebbia E meno male che Simone di Stepsover dice che non c'è più la nebbia a Milano La nebbia è le ghe Cos'è che c'è? La nebbia? Le ghe La ghe La scighiera Ecco Qui siamo alle porte di Milano Sud Quindi periferia di Milano Perché comunque è ancora Milano E c'è la nebbia Finalmente un pochettino di sole Proprio pelato Dopo 100 km di nebbia piena Sono spuntate le montagne Prima gita fuori porta del 2022 Siamo nella zona del Torinese E andiamo a scoprire le residenze dei Savoia Di quando andavano in vacanza Ed eccoci giunti alla palazzina di caccia di Stupinigi Frazione di Michelino a sud di Torino La residenza è inserita all'interno di un parco naturale Il complesso nella sua forma attuale È stato progettato per il Savoia nel 1729 Ed era destinato alla pratica della caccia Come testimonia la scultura del cervo Posta sul tetto dell'edificio Ma non solo Era destinato anche allo svago Vi si tenevano feste, ricevimenti, matrimoni È uno dei gioielli dell'architettura barocca torinese Appartiene al circuito delle residenze Sabaude Ed è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO La visita inizia dalla scuderia Dove si può ammirare la scultura originale del cervo Perché quella attualmente in cima alla palazzina È una riproduzione Attraversando la biblioteca Si arriva al cuore della palazzina Il salone centrale Da qui si accede agli appartamenti reali E alla cappella di Sant'Umberto Protettore della caccia e dei cacciatori Nonostante la destinazione venatoria La palazzina è redata in maniera sontuosa Alcune sale sono veri e propri capolavori Ad oggi i giardini non sono visitabili Perché è in restauro Ma all'esterno si può fare una passeggiata Di fronte alla palazzina Dove è possibile incrociare qualche simpatica lepre Eccolo lì, guardalo Ciao picciolino Ciao picciolino Se vi trovate nel torinese Questa è una visita da non perdere Essendo pieno inverno Le giornate sono brevi Decidiamo quindi di spostarci Più a nord nel parcheggio In cui sosteremo per la notte Ma Siamo arrivati E ci siamo parcheggiati Sotto la sacra di San Michele Perde tutta sta roba qua Adesso Andrea è alle prese Con un altro Come dire Piccolo intoppo Cioè La nostra doccia perde Cioè esce l'acqua Ma porca Jonata Perché Questa è la situazione È solo questo che perde il rubinetto Ma perché gli arriva della pressione Qua è asciutto Meno male Sì sì Meno male Il rubinetto non si può smontare? Eh sì Bisogna capire Se è rubinetto Però devo svuotare l'impianto Prima Eh no Mica adesso Il rubinetto non si può smontare? Ecrisci Non si può smontare? No Ombresca Non si può smontare? Cioè IlPe teve che Sanno in questo momento siamo parcheggiati sotto la sacra di san michele percorreremo il sentiero per salire su e abbiamo passato una notte qui in questo parcheggio vi metto in descrizione ovviamente l'indirizzo del parcheggio e qua vicino proprio qua attaccato c'è un'area sosta costa 8 euro con carico e scarico zona molto tranquilla ci siamo trovati molto bene a dormire qui fa freddo fa molto freddo abbiamo sempre un qualche problemino all'interno del camper praticamente accendendo la pompa dell'acqua quando il circuito si riempie abbiamo una perdita dal miscelatore della doccia credo che sia una guarnizione spero quindi dovrò smontarlo controllarlo e nel caso se non si potesse riparare comprarne uno nuovo in questo momento è un po di momento un po di disagio perché dobbiamo sempre attaccare e staccare la pompa e svuotare l'impianto altrimenti cola tutto nella doccia ed è un problema bene colazione fatta e aspetto che valentina finisca di prepararsi per poi salire siamo sul sentiero 503 che ci porta alla sacra di san michele è una vecchia mulattiera che parte proprio dal parcheggio dove abbiamo messo il camper dove abbiamo passato la notte difficoltà media dicono media si medio facile diciamo è in salita fa 600 metri circa di dislivello e sono tre chilometri se non erro un'ora e quaranta ma c'è chi dice un'ora e quaranta c'è chi dice un'ora e un quarto vedremo quanto ci mettiamo noi va bene col nostro passo proseguiamo è un'ora e un quarto che stiamo facendo questo sentiero è dura tranquilli tranquilli è molto dura ci mancano 40 minuti vediamo la sacra un po più vicino ma dai sì sì vedrai che arriviamo arriviamo abbiamo dovuto togliere il giubbotto perché si suda tantissimo comunque si sta bene non arriveremo mai tanto guarda andre fino alle 13 non possiamo entrare perché c'è la messa non ho neanche niente da mangiare allora lì vicino c'è l'agriturismo andiamo probabilmente abbiamo finito il sentiero e adesso facciamo un pezzo di strada asfaltata quindi manca poco siamo al parcheggio per chi non ha voglia di affrontare la salita c'è la possibilità di arrivare al parcheggio sotto la sacra in auto o in camper e dopo la fatica che abbiamo fatto ci meritiamo una bella sosta al ristorante sul piazzale della croce nera poi proseguiamo il cammino io ho preso una polenta classica io ho preso gli agnolotti alla piemontese con il sugo di brasato buonissimi buoni pasta fresca buoni ci spariamo questi ultimi 10 minuti ma sull'asfalto buoni 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.